Mi definirei un artigiano. Mi chiamo Massimiliano e da circa 25 anni realizzo copricapi e accessori al costume per le grandi produzioni cinematografiche. Ho cominciato nel 1983 in una grande ditta di Roma. Lì ho avuto modo di conoscere i vecchi maestri cappellai che tramandavano il mestiere da almeno quattro generazioni. Mi sono subito appassionato al cappello. Nel 2010 abbiamo creato questo nuovo marchio Move Roma cercando di allargare gli orizzonti alla moda e cercando di contaminare il cappello con il gusto del cinema e del teatro. Cerchiamo di fare lavori su misura ad hoc, consigliare delle cose, ma ascoltare sempre le persone e cercare di creare un prodotto unico. Un cappello che hai solo tu. Un'Secca Un'Secca